Prevenire significa che c'è una programmazione a lungo termine, quindi ci vogliono soldi e ci vuole uno stato delle conoscenze importante. Norcia è l'esempio lampante dove è un intervento fatto secondo criteri antisismici, sopportato da un'adeguata progettazione da tecnici che conoscono il problema, le imprese che realizzano opere in maniera seria e il risultato è questo, sono stati danni marginali come giusto che ci siano, danni a strutture secondarie come giusto che ci siano per un evento di questo tipo, ma quello che è la cosa importante, il crollo quindi da salvaguardia della vita umana è rimasta intatta, nel senso che è stato salvaguardato l'uomo, è quello che interessa a noi ingegneri. Mi spiace sottolineare questa cosa però un terremoto di magnitudo 6.0 con degli edifici come quelli che sono stati fatti a Norcia ad Amatrice, sarebbe stata tutta un'altra cosa? Sicuramente sì, con l'intervento che c'è stato a Norcia dopo il sismo è stato andato a Norcia, non ci vendichiamo che poi sono stati fatti tutti gli interventi a metà degli anni 90, e certo che fatti anche ad Amatrice molto più in meno non avremmo assistito a quelle immagini di isolanti che ti prendono il cuore, purtroppo stiamo parlando di strutture in pietrame con della farina purtroppo in mezzo e sono strutture estremamente fragili, poco duttili e i risultati sono questi. Ha visto la scuola? La scuola l'ho vista da immagini, mi è sembrato che una parte è rimasta intatta, un'altra parte è venuta giù, per il problema di fondo è sempre lo stesso, che spesso quando c'è una ripartizione di soldi avviene attraverso una ripartizione a pioggia, piuttosto che sulla base di progetti, perché forse molto in mente quell'importo di cui ho letto sui giornali può darsi che non era sufficiente per raggiungere il risultato. Certo è che lascia tanta amarezza o qualcosa del genere, magari la scossa invece delle 3.32 o 3.36 fosse successa durante il periodo scolastico, staremo a parlare di altre cose. Teramo vicina, possiamo dire per le scosse che abbiamo sentito, ma lontana alla fine dall'epicentro, ha subito dei danni, dei danni purtroppo a due edifici scolastici, edifici pubblici. Danni ancora non sono stati rilevati, qual è effettivamente la gravità dei danni, non ci hanno fatto entrare all'interno della scuola per far vedere anche a lei queste crepe, se sono importanti, rilevanti. Il fatto sta che c'è una disposizione di interdizione dell'uso sia dell'Alessandrini che del Pascal di Teramo, scuole inagibili in gran parte degli edifici. Il problema non lo conosco, ci troviamo qui in prossima del Pascal, da quello che vedo esternamente stiamo parlando di danni a strutture secondarie, quindi penso che chi ha rilevato sta parlando di strutture secondarie, quando parliamo di strutture secondarie ci riferiamo alle tamponature. E in questa situazione, anche se il sisma non è eccessivamente importante, anche la distanza dall'epicentro va in questa direzione, però ci può stare strutture realizzate in un certo periodo dove la sensibilità verso le strutture secondarie non era tale quella che c'è oggi, questo fenomeno ci può stare e si può verificare. Però dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo. Il fatto che sia inagibile penso che sia un pezzo, un'aula, un pezzo della scuola, ma non è a rischio, cioè non stiamo interessando la parte strutturale, che è quella che a noi maggiormente ci interessa, quella rischio. Stiamo parlando di strutture secondarie, tipo cascare qualche pezzo di intorno, ma viva Dio ci può stare, non è quello il problema. In laboratori però ristrutturati di recente, consegnati solo quattro mesi fa, su cui sono stati spesi, sì, non è una somma rilevante, 150 mila euro, però sono stati consegnati solo quattro mesi fa e adesso sono nelle condizioni stesse dopo il terremoto del 2009. Allora, voglio fare un passo indietro al proposito dei soldi, perché qui c'è un problema di fondo grosso. Io ho la sensazione che prima si stanzia nei soldi e poi si faccia il progetto. E questo è un male tutto nostro, non c'è programmazione, non c'è una risaltenta dell'esigenza del problema. Allora, la cifra che è stata stanziata mi sembra una cifra ridicola, che è tale da poter intaccare e quindi migliorare un comportamento sismico della struttura. Secondo me non si è intervenuto da quel punto di vista. Molto in mente si è tornato a sanare, allora si è intervenuto una struttura che ha subito delle lesioni, quindi parliamo di tamponature, si sono rimessi a posto, perché c'erano delle esigenze condigenti del momento di riaprire uno spazio, di dare disponibilità agli alunni e quindi c'era quell'impellenza. Ma lì non si è fatto un intervento sulla struttura, perché penso che neanche allora, il 2009, ha subito danni di natura sismica. Adesso non me lo ricordo, quindi stiamo parlando di interventi su strutture secondarie. E quello che è successo oggi può succedere anche dopodomani, perché magari, di fronte a una scosta dello stesso magnitudo, risistemiamo l'intonico, magari ci mettiamo pure la rete, ma per altri tipi di comportamento si possono ripresentare delle lesioni. E vabbè, ci possono stare. Dispiace, ma ci possono stare.